Siamo arrivati con i miami o no qui a Dundown Basket, fine della partita, possiamo presentare i giocatori, attenzione, cosa hai detto? Daniele Tinto, grandissimo, veloce, veloce, passa bene la palla, fai da questa partita, è bella, è bella, è bella, mettiamo quest'altro e adesso è il top del top, buonasera, chi è lei? Io sono Miss Spaglia tutti i passaggi, questo è Daniele Damiani, street, chiamato dalle nostre parti e lui fa una cosa molto importante, lui balla, faccio vedere un pezzo, io ballo, brava balla, buonasera, grazie, grazie a voi.